e abbiamo qua ambo 98 raga io un giorno ogni lingotto ha un procedimento diverso perché da quando è che in minecraft la notte è diventata così puzzolente c'è assurdo assurdo sono in full diamante sono glicciato nel terreno cosa ok è assurda questa cosa mamma mia non ho niente da dire cioè sono glicciato da parte non riesco che cacchio sta succedendo cosa non mi distorcio scusa no salta no non crepare qualcuno che me lo clipa per favore vediamo se la provo è su horizon zero dune ok ragazzi vi faccio un raidino a questa brutta persona che è la mia moderatrice salutatemela che calza avete ricevuto i soldi in un gioco io fino a 35 anni la voglio poi la compro da sola raga secondo me moriamo malissimo gladiator e genitv grazie a me per il follow grazie a tabaci ho tanta paura ho tanta paura patracuff patracuff pat 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 allora porca buttana ho bagnato tutto col te ragazzi ho bagnato la tassera col te ho bagnato un po la tassera col te ma non è arrivata lì per fortuna sono cagare comunque questi infatti fanno boschi rimane in base regala clip ecco che dici oh 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 non c'è l'escrizione non c'è l'escrizione Non suona come una parola romanica Ma che cazzo No scusate ho visto i polli che sbattevano le ali Quando sono spaventato mi sono spaventato Non volevo continuarla Chi? Sindomi XFN grazie mille Io come sempre ho qua Il mio Porta fortuna La mia bellissima nutria Vi piace? Vi piace la mia nutria? E' contentissimo Guardatelo Sono contento In testa Una fascia d'allenamento Si prepara a calcare La passerella Grazie Kandokan che regala la risaba Yass Ed ecco qui Il pinguino che avete richiesto voi Ricordiamo che comunque i pinguini sono sempre meglio Delle foche Questo è un dato di fatto Le foche Ragazzi No Pinguini si Bravo pinguino Grazie a tutti